Io sono convinto che hanno il termine, mi sembra ultimo, non vorrei sbagliare, il 24 maggio, però sono convinto già dal messaggio che ieri la De Michelis, rappresentanza del governo, ha lanciato dicendo che per l'Aquila i fondi ci sono e sono convinto che troveranno anche questi fondi che servono quantomeno per riparaggiare il bilancio. E l'ospicio del presidente del Lancio e l'Aquila Gianni Frattali, rappresentanza dei costruttori edili impegnati nei cantieri del cratere sismico, preoccupati ma anche fiduciosi sulla possibilità che alla fine il governo stanzierà i 24 milioni di euro di trasferimenti straordinari necessari al comune per chiudere il bilancio di previsione. L'alternativa del resto sarebbe la caduta della maggioranza del sindaco Massimo Cialente. A tal proposito, ieri il sottosegretario Paolo De Michelli, interlocutore governativo privilegiato per la ricostruzione abruzzese, ha annunciato che sarà nel capoluogo in occasione della rassegna di restauro e riqualificazione urbana Officina L'Aquila, organizzato da Ancia, Abruzzo e Carza, dal 24 al 26 maggio 2016. Nei giorni insomma in cui il bilancio di previsione arriverà in consiglio comunale. Ieri a Roma la De Michelli non ha detto nulla relativamente al trasferimento dei 24 milioni, ma ha più volte rimarcato che la ricostruzione resta una delle priorità nazionali e a confermarlo sono i numeri e i fatti concreti. In questo biennio nel quale appunto anche io ho agito a sostegno della ricostruzione aquilana noi abbiamo garantito 2 miliardi di euro per la ricostruzione privata. Abbiamo confermato il 4% degli stanziamenti per la ricostruzione privata ai progetti di sviluppo economico. Ci sono quasi 3 mila cantieri aperti in questi due anni. Ci lasciamo alle spalle, diciamo così, lavoro per 19 mila persone. Abbiamo, sono state coinvolte oltre 2 mila e 70 aziende, di cui più di 900 hanno la sede legale nel territorio aquilano. Passi avanti, ma non senza ostacoli, per il restauro e la valorizzazione dell'area di Porta Bareta all'Aquila. Da mesi osteggiate da parte dei cittadini del Civico 207 che hanno dato battaglia per ricostruire dove era la palazzina distrutta dal sisma, ma costruita negli anni 60 sopra una delle aree archeologiche più antiche e pregiate della città. Il segretariato regionale per l'Abruzzo e la soprintendenza unica hanno notificato infatti a tutti i condomini del Civico di Via Roma 207 i decreti di immissione in possesso delle aree di lavoro. Il decreto consentirà insomma di completare il lavoro di restauro e recupero del tratto di mura da Porta Branconi a Porta Barete con la creazione di un camminamento ininterrotto da viale della Croce Rossa fino alla porta. Ma i residenti del Civico 207 non demordono, spiegano che loro sarà l'unico condominio ad essere delocalizzato e hanno scritto addirittura al ministro Dario Franceschini per chiedere un sopralluogo. Ma a questo punto, dopo un lungo contenzioso giudiziario, la strada è spianata per l'ambizioso progetto di valorizzazione dell'area, un progetto di massima che raccoglie l'entusiasmo di migliaia di cittadini e che prevede la riapertura dell'antichissima Porta Urbica, oggi murata, la rimozione del terrapieno nell'ultimo tratto di Via Roma, l'abbattimento dell'orribile ponte in cemento che sovrasta le mura e la porta. Il progetto dovrà essere condiviso con l'accordo di programma quadro tra gli enti coinvolti e poi dovrà essere votato in consiglio comunale. Gazebo è raccolta firme per dire sì alla legge su legittima difesa e no all'utero in affitto, questionari in vista delle prossime elezioni. Parte così la campagna di primavera di Noi Consalvini dell'Aquila, illustrata oggi in conferenza stampa dai tre consiglieri comunali Luigi Deramo, Daniele Ferella e Massimiliano Imprudente, e dal coordinatore provinciale Alfonso Magliocco. Appuntamento nel mercato di Piazza d'Armi all'Aquila dalle 10 alle 13 di sabato, nella piazza della frazione di Arischia, domenica alla stessa ora. Renzi e il suo governo hanno stralciato per l'ennesima volta un tentativo di modifica di questa legge, perché la difesa deve essere sempre legittima quando qualcuno si introduce all'interno di un'abitazione. Dall'altra, tra qualche giorno tornerà in discussione il testo sull'utero in affitto, a cui noi diciamo no nel giorno della festa della mamma. Poi c'è una seconda parte con un questionario che noi sottoporremo ai cittadini dell'Aquila e soprattutto delle frazioni, perché poi cominceremo anche a fare, già lo facciamo con Arischia, ma poi ci saranno anche altre iniziative nelle altre frazioni, da sottoporre ai cittadini, quindi un momento di ascolto per capire le problematiche legate alle singole frazioni e in generale sulla città dell'Aquila. Saranno poi distribuiti questionari per raccogliere direttamente dai cittadini i temi e priorità su cui costruire il programma elettorale per le prossime amministrative del capoluogo. Elezioni anticipate auspicano i salviniani perché assicurano la maggioranza del sindaco PD Massimo Cialente è oramai al capolinea. Non si comprende perché Cialente in anni in cui non c'era il governo e il centrosinistra ha fatto manifestazioni clamorose, il ritiro delle bandiere piuttosto che l'occupazione del casello dell'autostrada, mentre oggi siccome c'è un governo a lui vicino ha deciso di fare delle forme di protesta a difesa del capoluogo di regione assolutamente inesistenti e questo dimostra che non c'è terzietà da parte del primo cittadino, cioè non si può difendere l'Aquila soltanto quando c'è un governo diverso dal proprio colore politico. L'Aquila va a difesa sempre e comunque.